l'incidente aereo avvenuto in oaglio che ha provocato ben nove morti è finito anche in diretta nel social network si chiama peiji è una ragazza di akron che in modo inconsapevole però ha finito per trasmettere lo schianto in diretta su snapchat per i giovani infatti vive a pochi isolai di distanza dall'edificio in cui si è schiantato il jet a bimotore e stava divertendosi con dei video in cui faceva delle divertenti smoffie quando è stata colta per l'appunto di sorpresa dal terribile impatto la vittima dell'incidente ripeto 9 tutti i passeggeri dell'aerovericolo fortunatamente il palo sul tuo jet però era disabitato vi ringrazio per l'ascolto il video termina qua un sovra presto